Non c'è problema con Allegri, il contratto lo si farà appunto e basta. Le percentuali di permanenza di Allegri sulla panchina del Milan sono 100, fra 100 e 101. Un amico ha detto che arrivi te, vediamo, c'è tempo, il mercato apre il 3 di gennaio o il 4 di gennaio. Ma è un'opportunità o una necessità, visto il Milan che segna tutti questi gol? Ma no, ci manca Cassano, adesso vedremo, magari rimaniamo così, non è detto che arrivi qualche attaccante. Certamente noi siamo partiti con un attaccante in più quest'anno, ha tenuto conto di tutti i nostri impegni e Cassano non c'è, questo è il problema. Sennò non avremmo mai neanche pensato a prendere un altro attaccante. Adesso non è detto che arrivi, però un minimo di pensiero lo fai perché manca Cassano. Un giocatore che arriverà sarà sicuramente un prestito gratuito con diritto di riscatto. Quindi chi ha voglia di dare ai giocatori un prestito gratuito con diritto di riscatto scriva a Via Turati 3 Milano, 20 e 121 Milano.